guarda che popolo c'è lasciato tutto così è però queste porte qua strana cosa guarda tv vecchie la valigia la sala lavorazione lavorazione di cosa però mio dio 78 74 nei magazzini oddio guarda quanti bauli decine decine di bauli questa azienda qui aveva a che fare con una grande azienda italiana una grande catena di grandi magazzini andiamo ad andare anche di qua prima cosa c'è enorme comunque questo posto sì e poi andremo anche su di qua allora anche questo è usato come deposito materassi sempre giochi di bambini continuano a esserci questi tronchi qua cosa servivano prendevano i salami guarda il salito papagallo che dico io ma mettevano a seccare asciugare qualcosa sì sì esatto wow come si è ridotto questo materasso guarda lì guarda quanti ma guarda lì sono fiori ma cosa sono questi qua sono fiori sai cosa sembrano quelle piante quelle che hanno le bacche rosse e probabilmente li raccoglievano ma sono belle che belle sì qua altre riviste sempre delle l'informatore agrario eccola qua questa qua del 97 ma piena di riviste mamma mia guarda Fisher Price sì il banchetto di lavoro Fisher Price poi sì ma c'era usato per mettere roba di bambini guarda fa fasciatoio tanta roba di bambini eh le cose mamma mia che inquietante che è guarda wow qua è crollato tutto sì è bello questo posto e questo qua sai cosa sembra questo? quei banconi adesso magari dico una puttanata per tenere le aste del biliardo del biliardo è vero? sì ma qua c'è un po' di tutto robe da bambini robe di arredamento allora qua quante cose che ci sono telefoni vecchissimi guardali questo è tipo un telefono centralino vedi? sì ti passo questo ti passo quella anche quella lì è una questa qua era una di quelle cose telescopio non era di una è il telefono quindi tu dici che questo era così? sì tipo in qualche modo così esatto potrebbe essere sì io pensavo che sai che dovevi scrivere sì anche qua informatore agrario ovunque ah sì erano preparatissimi telefoni di tutti i tipi anche qua ma guarda quanti centralino quello raggiunto è un centralino sempre un telefono e sono come questi qua sono tutti uguali e qui non porta documenti questa è una cassettiera con la chiave ancora che figata cioè si apre come si apriva io non so mica affatto non lo so e quella lì che cos'è scusa? quella? quel pallone arancione sembra come una luce questa è una scritta luminosa che figo guarda lettere sono N sono lettere sì O C vedi? eh sai che cos'era quella roba lì? sì era di un negozio eh sì hai capito? sì io me la ricordo questo mamma mia questo logo qua eh eh certo è famosissima chissà se anche qualcuno se la ricorda famosissima non capisco che cosa ci fa perché qua? no me lo so forse è meglio che non ci facciamo tante domande esatto anche là erano in segno di un negozio qualcosa visto? e queste lampade lampade da anche questo qua sembra da quelle che ci sono ai minigolfi presente per illuminare sì è che porta stecche eh che figo se troviamo anche le stecche da biliardo dai eh magari da qualche parte ci sono bene andiamo su mio dio è bello è bello assolutamente no o assolutamente sì andiamo andiamo vai hai pieno tu stavolta dimostrati casco io dimostrati spregiante pericoli abbiamo fatto gradini molto peggiori sì il problema ecco ci ha messo un po' i soffitti oddio guarda qua è crullato tutto è sì è andato tutto è stata tentata testa solo sopra le tre passa veloce la scossa sì sì enormissimo mamma mia enormissimo ma cosa sono quelle no ma cosa sono quelle i totem i totem lì beh adesso sono curioso di vedere se c'è qualcosa dentro cioè ma tanto è solido guarda sì vediamo parole famose lui va beh si sente che è duro tutto incompensato però con delle aperture forse chissà sì sì sono si vede sotto sono dei buchi con quello sotto col piano di sotto è come se comunicassero in qualche maniera chissà che roba era e tutte tutte le finestre sotto hanno quel meccanismo di apertura di apertura bassa vedi sì chissà che cos'è questa cosa qua sono proprio curioso di sapere che cos'è ma anche io tantissimo perché posso capirne uno ogni tanto ma uno esattamente sotto ogni finestra che senso aprire le finestrelle sotto quando sopra c'è la finestra stessa guarda qua molte che ti piacciono gli interruttori bellissimo sì ok non c'è niente tutto crollato senti la scala punta anche là in fondo la vedi? dov'è? va diritto davanti a te ancora? io la odio no questa scala punta se qualcuno non ci dice cosa sarà la scala punta la odio che bello che bella luce che entra vedi qua scusa che c'è? una sorta di no questo dobbiamo vederlo dai quelle cose che mettevi dentro le cose quelle cose che mettevi dentro le cose io ho capito tutto qua dietro vedendo capirai ma che bello oh mio dio distributore di semenze guardalo orzo, avena seme seconda qualità terza qualità uno faceva così ma che meraviglia uno faceva così si apriva e usciva fuori semenza vedete qua c'è un meccanismo e l'ha lasciato lì così guarda ma come l'ha portato qua sopra? ma questa è una roba storica prima fabbrica italiana svecciatori da grano separatori di riso e degustatori scusa ma come l'hanno portato qua sopra? non lo so io selezionatore da grano e risone ma guarda che macchinario qua su bellissimo mamma mia che bello questa attrezzatura qui meraviglioso e qua guarda anche un altro mamma guarda che ingranaggi qua cioè praticamente sta cosa qua girava e separava le varie tipi di semenze in base penso alla grossezza no? questo cilindro girando ok aveva dei buchi più o meno grossi un settacciatore quindi? e separava in base alla grossezza immagino delle semenze e poi le distribuiva qua quando uno voleva servirsi apriva qua e esceva fuori no no probabilmente quando dovevano preparare dei sacchi si qua sotto li avevano i sacchi probabilmente esatto è bellissimo bellissimo e questo qua era un suo cestello bellissimo non è che ci facevamo sfuggire qua bene siamo usciti da questo inatteso posto molto interessante è vero? sì stavo cadendo la solita leggendria no ma chi immaginava mai di trovare un'attrezzatura del genere in un posto così no ma infatti quel macchinario alla fine era bellissimo poi sì è veramente strano perché negli anni questo posto qua aveva subito tante destinazioni d'uso diverse secondo me da pure lavorazione del grano anche magazzini uffici di contabilità di varie aziende sì sì assurdo quello che stiamo trovando in un unico edificio è come se ci fossero state tantissime aziende che si sono o succedute o forse magari hanno anche lavorato nello stesso tempo anche il discorso dei campi da golf non lo so di quelle cose che abbiamo trovato sì 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 manca ancora tutta quella parte là da visitare che probabilmente faceva parte delle stesse comprensorie di aziende vediamo cosa possiamo scoprire là qualcosa di interessante proviamo proviamoci che bella questa foglia di sembra sommacco ma non è sommacco ed era rossa bellissima sì davvero avere un portico ecco qua officina scritto guarda officina wow quindi abbiamo visto mulino sala macchinari cosa c'è scritto magazzino e officina è un micromondo palloncino eccola è andato perché se lo sapete la fede era una squadra di serie B femminile quando era giovane si può arrivare la terza e quarta in un campionato del sì del 90 92 sì ma dai che poi c'è la gente che ci crede iniziamo subito da qua può crederci macchinari strani vabbè questo è tutto chiuso locale caldaia qua è chiuso non si può accedere no vabbè ma troveremo un altro ingresso vedrai vedrai wow ah di nuovo quei picchetti ah sì di nuovo ne hanno buttato fuori un pochi e questi qua erano sicuramente dei campi da golf sì sì ok qua si può entrare ok ecco officina perché sì perché mettevano i macchinari sopra e sotto andavano che figo andavano a scendeva il meccanico a ripararli esatto la sotto come si sente l'odore dell'officina senti tu oddio sì ma io sai che gioco in casa qua cosa mettevano le punte dei trapani vedi che sono numerati sì è vero o qualcosa infilavano sì sì punte da trapani dici così grosse sì o forse utensili no no perché le misure ci stanno l'odore io uso degli occhiali a schermo io dai i tuoi occhiali molla ma cos'è la molla smeriglio è la molla del smeriglio si mette sulla flex qua stanzetta creepy una piccola stanzetta questa è la solita stanzetta delle punizioni no questo qua di 94 sempre in quegli anni là comunque 94 96 che abbiamo visto è una cappa di una la fucina bella la fucina la fucina e queste rotarie qua teniamo su penso le catene per sollevare i macchinari e il carraponte vediamo ancora questa porticina qua sì e queste sono tutte le scansie per mettere le cose magazzino magazzino eh magazzino ricambi eh già che era la porta che siamo eh sì quella da dove siamo usciti chiusa però ci sono delle chiavi per terra eh hai coraggio di provarle eh certo le lascio lì cosa c'è scritto sulla chiave ce ne sono tante chiavi niente non sono nessuna di queste chiavi no non funziona nessuna bene proseguiamo proseguiamo io lì voglio assolutamente riuscire a salire eh ma non si può a chiuso ma ci sarà un altro ingresso vedrai magazzini secondo me questa era una stalla comunque una stalla sì qui e qui andiamo ah qua ci dormivano wow 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 un cacchio questo è stato il suo bagno un'altra stanza da letto che miseria inquietante qua scarpe ciabatte sì madonna quanto grande è sta roba qui no qua sono le oschi fette buttate oh vedi anti incendi e quel cappannone no un'altra cosa ancora anti incendi si che muri bombole che porticina ma è giusto un sacco di vernici i colori via 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 guarda che crepa che c'è lì ho visto sì porca miseria questo era un altro tutto aperto questo è un vecchio banco di lavoro niente di che quindi qua venivano dentro con forse per scaricare il grano questa cosa qua cos'era ma cosa c'è come di natale se non sai cos'è questa qua è la guarda un carro no è la cassa di un presepe si mettono nelle chiese non so se è pure quello c'è qui cosa ci manca di trovare ok usciamo di qui una rimessa una rimessa forse anche i trattori all'epoca è un po' arrabattato macchinario gigante qua oddio cos'è quella roba lì non sono noti il logo che c'è ma allora scusa non capisco stai attento che c'è un buco è qua qua chissà cosa serviva come se scaricasse quadri elettrici quello che rimane dei quadri elettrici ma chissà cosa serviva questo proprio di macchinario cioè ma sì è una cosa agricola una cosa agricola questo è un pozzo senza fondo no ah sì azienda agricola c'è scritto eh sì ho letto come se caricassero ma è Joyce che piglia senti sono uccellini questo qua era il gabbiotto di controllo dove c'era l'operatore temperatura esercizio no non lasciarmi da solo il grande vuoto il grande vuoto il vuotismo un magazzino enorme la ventola è una ventola gigante di reazione ah vedi il tubo è in alto praticamente da quel macchinario là attraverso il tubo arrivano in quei bocchettoni là e poi scaricava secondo me o nei camion non vedi bene abbiamo concluso questa esplorazione adesso se trovo fede facciamola conclusa fede dove sei finita fede dove sei ho trovato questo cosa ma guarda che figo ma dai paiazza guarda che figo questo qua era il trattore che usavano per lavorare guarda 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 dobbiamo fare la conclusione e concludi no? bellissimo che male soddisfatti di questa esplorazione? sì è finita tante belle sorprese ma sì incredibile macchinario pazzesco lassù veramente poi entra un sacco di cose non li ho capito bene cosa sarebbe viva no proveremo ad andare a fondo un po' di tutti questi misteri di tutte queste aziende che si sono accavallate qui sarà un casino non so se ce la facciamo proviamoci bel like e subscribe alla prossima ciao 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 ciao